Picchia un passante il cliente di un bar, per lui scattano arresto e immediata scarcerazione. San Pietro in Gu, la follia, si scatena in centro quando un ventenne senza apparenti motivi si scaglia contro tre persone. L'avventore, un cliente del bar e il gestore del locale. Arrivano immediatamente i carabinieri e per il giovanotto, che non era sotto effetto di alcol e non risulta in cura per problemi psichici, scatta l'accompagnamento in caserma. Il ragazzo dovrà rispondere di lesioni personali e minacce aggravate. Una nota in cella di sicurezza per lui, che è comparso davanti al giudice, che dopo aver convalidato l'arresto lo ha rimesso in libertà, con l'obbligo di presentazione tre volte alla settimana alla polizia giudiziaria. Sette i giorni di prognosi per il 43enne Vicentino, aggredito dall'uomo.